Allora, dopo gara rocambolesco, lo sporting vince grazie a un tiro libero con il capitano Cristian Pardo, una partita comunque non proprio brillante da parte vostra. Una partita difficile, lo sapevamo, loro sono una squadra ostica che lotta su tutti i palloni e comunque è la prima squadra che viene qui e ci mette in difficoltà. Sapevamo questo, siamo stati bravi, abbiamo retto fino alla fine, alla fine è stata una partita vinta col cuore, più della tecnica che sappiamo di avere. Ecco, Pardo, un po' contratti, poi avete preso un po' coraggio, forse il gol vi ha spronato. Sì, siamo partiti un po' contratti, forse un po' la settimana ci siamo allenati poco perché abbiamo avuto problemi col campo, impegni per le festività natalizie di cene aziendali e quindi siamo partiti un po' così, però dopo ci siamo ripresi bene e la partita per fortuna è andata come volevamo.